Che cosa ha appena fatto Dante? Dante ha appena fatto la sua prima intervista al giornale di karate Scusate ma avete mai visto un bambino di due giorni che ha fatto l'intervista al giornale? Numero uno Potete dire una cosa? È carino, siete sinceri, è carino È stato bravissimo, è dolcissimo Amore Patatone Grazie staff dell'ospedale, vi mancherò un po'? Sì Bugiarda, sei una bugiarda Quanto ti amo Mamma mia io quanto ti amo Ma quanto ti amo, io ti amo troppo No adesso va svegliato quindi svegliati Svegliati, ho le poppe di fuori Svegliati 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 Svegliati